registrazione partita partita grazie allora intanto vi condivido lo schermo che è questo perché l'altro ditemi se vedete lo schermo in cui ci sono le slide si vede? si 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 vedono di là mi tengo aperto il resto ok bene aspetta che mi riposiziono sull'esercizio della volta scorsa prima di tutto vorrei chiedervi se siete riusciti a fare tutte le cose che ci siamo detti la volta scorsa più o meno e in che modo quindi se siete riusciti a fare anzitutto le installazioni l'installazione di python e di pycharm e poi se avete fatto anche anche gli esercizi qualcuno di voi anzi diciamo facciamo così c'è qualcuno di voi che non è riuscito a installare niente al di là di non averci proprio provato qualcuno che ci ha provato e non ci è assolutamente riuscito se tutto tace vuol dire che tendenzialmente o non ci avete nemmeno provato o gli siete riusciti più o meno una domanda se è possibile sì certo ecco ad esempio io gli esercizi li ho caricati non so se c'è una una correzione poi che possiamo fare tutti insieme giusto per vedere qual era qual era la soluzione in realtà usata sì 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 adesso li guardiamo intanto volevo assicurarmi se eravate riusciti a fare le varie installazioni dico tra l'altro una brevissima cosa perché ho avuto l'assist da una mail che ho ricevuto oggi pomeriggio se non ricordo che qualcuno di voi appunto mi ha detto che ha installato python non aveva ancora installato pycharm però su windows 10 con l'installazione di python c'era già anche annesso la python idli che permette di avere un ambiente in python e poter insomma utilizzare l'ambiente in python per fare gli esercizi che abbiamo fatto fino ad ora si può utilizzare si può utilizzare sia per utilizzarla come ambiente in python sia per andare a scrivere degli script python quindi i famosi script punto py e e lanciare questi script quindi volendo si può usare anche solamente quella per fare tutto quello che faremo anche nelle prossime lezioni il mio consiglio è di utilizzare qualcosa di un po' più strutturato come appunto pycharm ma soprattutto poi dalle prossime due lezioni in cui comincieremo a lavorare anche con dei file di testo finché facciamo dei calcoli semplici come abbiamo visto la volta scorsa e come vedremo oggi va anche bene la python idli si può anche direttamente scrivere tutto quanto direttamente sull'ambiente python quindi digitando python e scrivendo le cose direttamente lì nella prossima volta se tutti voi avete pycharm o un'alternativa pycharm come visual studio o se già sapete programmare quindi volete utilizzare un vostro editor di python come volete però sarebbe sarebbe meglio detto questo allora io sì ho visto che alcuni di voi hanno caricato gli esercizi della volta scorsa ho visto tutti quelli che erano stati caricati fino fino diciamo a stamattina poi ho visto che è arrivato anche qualcosa oggi pomeriggio l'ho un po' guardati al volo non l'ho guardati tutti quanti diciamo così però io li guarderei guarderei insomma la soluzione insieme di questi esercizi così anche chi di voi non li ha caricati perché non ha avuto tempo e modo di caricarli o semplicemente perché non non li ha fatti può vedere la soluzione io mi posizionerei su pycharm e vediamo la soluzione di questi esercizi poi magari vi commento qualcosa che ho visto sugli esercizi già fatti già caricati dalle altre persone per vedere un pochino quali sono magari gli errori che avete fatto eccetera non mi sto a soffermare sui singoli file di ognuno di voi tipo per vedere come l'ha fatto uno come l'ha fatto l'altro anche perché questi quattro esercizi qua anzi tre perché uno l'avevano già fatto sono abbastanza cioè si tratta di fare un unico calcolo quindi la soluzione alla fine è sempre quella quindi non ha senso guardare tutti gli esercizi che avete risolti tanto sono più o meno se l'avete risolto in maniera corretta dovrebbero essere stati risolti tutti più o meno in maniera in maniera uguale magari chi di voi non ha caricato gli esercizi e vuole commentare vuole rispondere vuole dire io l'ho fatto in quest'altro modo o si l'ho fatto così anch'io scriva pure anche qua in chat intervenga perché così almeno ho un feedback anche da chi di voi non aveva appunto caricato gli esercizi allora la volta scorsa avevamo visto il primissimo che era quello di chiedere all'utente di inserire due numeri reali x e y e stampare il valore di quell'operazione e quello vabbè vi ho lasciato anche la soluzione già caricata direttamente su Teams gli altri tre esercizi erano questi qui il primo era chiedere all'utente di inserire un numero intero e verificare se tale numero è pari allora io mi sposto su Pycharm aspettate che chiudo questa notifica che non vorrei che mi dia fastidio ok mi sposto subito su Pycharm si vede l'angrandita abbastanza sia il terminale sia l'editor dovrebbe leggersi se non si legge ditemelo pure che lo posso zoomare ancora questo è l'esercizio 1 l'esercizio 2 vi dico già che ho visto come è stato risolto più o meno da tutti voi che l'avete caricato e l'avete risolto in maniera diciamo corretta praticamente tutti quanti alcuni di voi addirittura hanno utilizzato i comandi if ed else che vedremo oggi in questa lezione immagino persone di voi che quantomeno hanno un minimo già programmato con altri linguaggi di programmazione anche con Python stesso o che magari sono cercati qualcosa online hanno visto che si può risolvere con i comandi if ed else in realtà siccome nella lezione scorsa i comandi if e i comandi condizionali non li abbiamo visti l'idea era quella di risolvere questo esercizio senza utilizzare i comandi condizionali e quindi abbiamo l'idea diciamo così più semplice in assoluto per risolvere questo esercizio era quella di ricorrere all'operazione del 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 modulo come vedete qua io come l'ho pensata ditemi anche qua voi in chat se avete risolto in maniera diversa se avete dei dubbi a riguardo chiedo come sempre all'utente di inserire un numero in input siccome l'esercizio chiedeva se non ricordo male di inserire un numero intero la prima cosa che faccio è convertire questo numero in intero come avevamo visto la volta scorsa la conversione in intero la posso fare anche direttamente qui e mi evito una riga di codice in più io qua l'ho fatto per chiarezza di farlo in una riga di codice in più però volendo si può fare anche solamente qui una volta che il mio numero è convertito in un numero intero io devo verificare se è divisibile per due per verificare che è divisibile per due l'unica cosa che posso fare è andare a verificare se il resto della divisione per due è zero perché se il resto della divisione per due è zero vuol dire che effettivamente quel numero è divisibile per due io ho creato una variabile risultato in realtà sarebbe stato meglio chiamarla anzi la modifico chiamarla resto che forse è più carino perché non è esattamente il risultato quello quello è il resto e ho scritto che il resto è uguale al numero modulo due e poi per avere una risposta positiva o negativa per poter sapere se il numero effettivamente è divisibile per due o meno ho scritto print e direttamente dentro il print ho scritto resto uguale uguale zero scrivere come ho scritto qui o fare una cosa di questo tipo in cui scrivo risultato uguale resto uguale uguale zero e scrivere print risultato è esattamente la stessa cosa non cambia assolutamente non cambia assolutamente nulla in questo caso qua mi crea una variabile in cui ci vado a mettere il risultato nella soluzione che avevo prima il risultato lo mettevo già direttamente come argomento del print però il funzionamento è esattamente lo stesso quindi ad esempio se lo esegue faccio python esercizio 2 e scrivo un numero tipo 4 lui mi risponde true perché 4 è divisibile per 2 se invece scrivo 7 mi restituisce false vi torna qualcuno di voi ha fatto in maniera differente in caso di errore di input se l'utente cioè se scrive A per esempio B una cosa del genere a me prendeva un errore sì certo quello quello certo se io scrivo qua per esempio A lui mi dà mi dà un errore perché perché vuole che sia un intero questo non l'ho previsto questo qua è un esercizio controllato quindi l'idea di base è che chiedo all'utente di inserire un numero io mi aspetto che l'utente inserisca un numero naturalmente in un contesto d'uso reale chi scrive un programma di questo tipo deve gestire tutte le eccezioni e quindi qua ad esempio ok guardavo il commento qua qua ad esempio tra il numero e la conversione del numero in int ci saranno magari dei controlli che si possono fare ad esempio con con i comandi if and else che vedremo oggi possiamo controllare se per esempio l'utente ha scritto correttamente la insomma il comando l'elemento da inserire in input quindi per esempio se gli chiedo di inserire un numero ma lui è sbagliato ha scritto una stringa io devo correre ai ripari e prima scrivere qualcosa che mi dica verifichiamo prima se quello che è inserito è un numero o meglio è una stringa che si può convertire in numero se si può fare vai avanti se non si può fare fai qualcos'altro ad esempio stampa un messaggio di errore già questa cosa del se funziona così facciamo una determinata operazione se invece non funziona in questo modo ne facciamo un'altra vi fa già entrare un po' nell'idea di quello che vedremo oggi quindi questa è l'idea dell'esercizio dell'esercizio 2 io mi sembra di averli guardati erano più o meno stati i soldi più o meno tutti in maniera simile l'esercizio 3 invece chiedeva di scrivere un codice in python che calcola il numero delle ore corrispondenti all'età di una persona anche questo abbastanza intuitivo qualcuno di voi se non ricordo male adesso se perché adesso non mi ricordo chi ha fatto cosa che non ha fatto magari se è connesso qua può anche dirlo aveva preso in considerazione ad esempio la possibilità dell'anno bisestile quindi aveva aggiunto anche il conto con l'anno bisestile io qua l'avevo fatta in maniera molto molto più semplice partendo dal presupposto che un anno ha 365 giorni anche se non è sempre così ogni giorno ha 24 ore e quindi semplicemente per calcolare l'età di una persona in ore devo semplicemente moltiplicare 365 per 24 per la mia età quindi come ho fatto qui chiedo all'utente di inserire l'età converto l'età in un numero intero quindi esattamente come 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 prima e poi io già qui mi sono creato la mia variabile risultato 365 per 24 per età anche qui non succede nulla se ad esempio io faccio una cosa del tipo calcolo 1 in cui scrivo che ne so 365 per 24 e poi scrivo che il risultato è calcolo 1 per età vedete bene che il passaggio è esattamente lo stesso io qua scrivendo 365 per 24 sto facendo tutto in questa riga di codice se lo voglio un po' spezzettare per renderlo magari in maniera più chiara io posso scrivere anche calcolo 1 uguale 365 per 24 addirittura alcuni di voi ho visto che 365 e 24 li hanno memorizzati all'interno di variabili quindi per esempio hanno scritto che x è uguale a 365 y uguale a 24 e poi magari qua sotto hanno fatto x per y per età quindi così x per y per età dove x sono i giorni in un anno y sono le ore e età e la mia variabile età va benissimo anche così vi ho fatto vedere le variabili la volta scorsa naturalmente quando si tratta di operazioni con due o tre calcoli uno può anche evitare di ricorrere alle variabili però il principio di memorizzare questi numeri questi valori all'interno di una variabile è corretto se io faccio python esercizio 3 e scrivo che io ho effettivamente 28 anni lo lancio e lui mi risponde esultato finale che sono 245.280 ore anche qui vi torna qualcuno di voi l'ha fatto in maniera diversa qualcuno di voi ha ricevuto degli errori che non che non che non gli tornano ok direi che più o meno su questo ci siamo l'ultimo esercizio che era invece l'esercizio qua 4 era calcolare il prezzo di un prodotto applicando uno sconto del 25% vado a punto veloce perché sono tutti esercizi da una singola operazione eccolo qui vogliamo calcolare il prezzo di un prodotto che ha uno sconto del 25% quindi non voglio restituire come risultato finale lo sconto ma voglio proprio il prezzo dato lo sconto quindi di fatto ho due operazioni anche qui si può fare tutto in un'unica stringa io qua me lo sono diviso in due parti per renderlo più chiaro quindi ho scritto ancora una volta inserisci il prezzo del prodotto in input questa volta come vedete il prezzo l'ho convertito in un float perché naturalmente il prezzo potrebbe essere 10 euro ma potrebbe essere anche 10 euro e mezzo e vai ciao a questo punto quello che vado a fare prima cosa calcolo lo sconto il calcolo dello sconto non c'è altra maniera per farlo il prezzo moltiplicato per 25 che è la percentuale dello sconto che ho considerato in questo esercizio diviso 100 anche qui io potrei anche scrivere che ne so x uguale a 25 e poi qua dentro scrivo prezzo per x in un caso ricorro all'utilizzo di una variabile nell'altro caso scrivo direttamente il numero che corrisponde allo sconto direttamente all'interno della mia operazione a questo punto ho calcolato lo sconto il mio nuovo prezzo non è altro che il prezzo meno lo sconto l'ho chiamato prezzo nuovo e appunto a questo punto alla fine scrivo print l'importo da pagare è prezzo nuovo e quindi prova del nuovo è molto semplice che io posso fare e se io scrivo se io scrivo 100 mi aspetterei come risposta 75 e difatti lui mi risponde 75.0 perché naturalmente ha un float poi naturalmente se rilancio l'esercizio su su un altro valore tipo che ne so il prezzo è 78 euro punto 5 lui mi calcolo 58.875 come come importo importo da pagare volendo poi per complicare l'esercizio uno potrebbe per esempio chiedere all'utente di inserire sia il prezzo sia lo sconto quindi a quel punto qua potete scrivere prezzo uguale input eccetera eccetera qua scrivi che ne so valore sconto che è uguale a input che ne so inserisci valore dello sconto o percentuale dello sconto anche questo qua noi lo andiamo a convertire in un float quindi per esempio valore sconto è uguale a float di valore sconto e a quel punto questa per esempio me la cancello e qua diventerà non prezzo per x ma prezzo per valore sconto questo per esempio mi può essere utile perché voglio eseguire lo stesso esercizio però a questo punto voglio che ne so calcolare come vedete qua schiaccio es4 di 60 euro virgola 5 però questa volta non voglio calcolare il 25 per cento di sconto ma voglio calcolare il 30 per cento di sconto e facendo così mi calcolo appunto il prezzo applicando un 30 per cento di scontro a 60 euro virgola 5 questo lo complica un pochino semplicemente prendendo un altro valore in input vi torna vi sono tornati questi esercizi li avete risolti anche chi non ha caricato gli esercizi li aveva fatti in questo modo in maniera diversa ci sono dei dubbi o posso andare avanti torna tutto vi ho detto questi qua non c'è nemmeno tanto confronto da fare nel modo in cui l'avete risolti perché l'operazione è una magari dalla prossima volta c'è anche c'è anche modo di confrontarci un po' di più anche sulle soluzioni un pochino diverse ok se si può andare avanti io mi sposterei al modulo di oggi speriamo di riuscire a chiuderlo tutto anche se c'è un po' di materiale come vi ho detto la volta scorsa le prime due lezioni saranno ahimè un pochino più teoriche perché soprattutto per chi di voi non ha mai programmato vi devo dare tutte le tutte le basi diciamo così di un linguaggio di programmazione quindi anche oggi ho diviso la lezione in due blocchi anzi in realtà sarebbero tre ma mi sa che il terzo non so se riusciamo a coprirlo quindi magari lo facciamo la prossima volta e alla fine dei due blocchi abbiamo degli esercizi il primo blocco vediamo se riusciamo a farli tutti e poi l'ultimo blocco magari ne guardiamo uno o due poi vengono lasciati tipo nove esercizi gli ultimi due anche un pochino più articolati in modo che voi ci possiate lavorare poi durante la durante la settimana come sempre qualunque dubbio qualunque problema non abbiate problema a intervenire anche durante la durante anche prima che io mi sia affermato abbia abbia finito un blocco allora volta scorsa noi abbiamo guardato gli aspetti di base diciamo così di python che erano e sono fondamentalmente le variabili le diverse tipologie di variabili e le liste le tuple edizionari la volta scorsa non abbiamo visto esercizi pratici sul sull'utilizzo delle liste e dei dizionari perché vi ho detto per poter lavorare con le liste lezionari bisogna lavorare con strutture un pochino più complesse che vedremo la lezione successiva queste strutture di cui andremo a parlare oggi sono quelle che vengono definite le strutture di controllo e che sono una parte fondamentale direi quasi che avendo poi il possesso delle di queste strutture e saperle utilizzare vi dà una overview non dico completa ma abbastanza eserciativa delle delle componenti principali per poter lavorare almeno a un livello molto basilare con python ora quello che abbiamo visto nella lezione precedente è che abbiamo insomma appreso è che ogni programma è strutturato come una sequenza di istruzioni no? noi andiamo a scrivere x uguale input e chiediamo l'input all'utente poi convertiamo quella x in un intero poi facciamo un'operazione poi dopo magari stampiamo un risultato quindi sequenzialmente noi andiamo a eseguire delle istruzioni e fino ad ora quello che noi abbiamo visto erano esecuzioni di tipo vengono definite sequenziali ovvero un comando alla volta la mia metafora di riferimento è quella di immaginare come all'esecuzione del programma come una strada fondamentalmente e fino ad ora noi abbiamo visto una strada che non ha nessun tipo di bivio non ha nessun tipo di diciamo così contrattempo è una strada che va sempre dritta all'infinito come vedremo però ci sono diversi casi in cui può essere necessario ricorrere a strutture un pochino più complesse alterando l'esecuzione delle istruzioni sulla base di condizioni quindi andando a modificare la struttura della strada andando a inserire ad esempio dei bivi andando a inserire il corrispettivo del ciclo potrebbe essere che ne so una rotonda all'interno della quale tu ti puoi inserire e continuare a leggerare all'infinito e modificando e complicando un po' la struttura del mio programma ora di base noi abbiamo due gruppi chiamiamole così di strutture di controllo che ci possono essere utili e fondamentali per controllare appunto il flusso di esecuzione di un codice che sono le strutture o i comandi condizionali if ed else e le strutture di ciclo che sono il ciclo for e il ciclo while prima andiamo a vedere le condizioni e i comandi condizionali ora come vi ho detto prima un modo per alterare la struttura e l'esecuzione di un programma è quella di porsi di fronte ad un bivio immaginate ad esempio l'esempio che qua ho illustrato nelle slide in cui io per esempio ho in input un numero intero che memorizza all'interno di una variabile che io ho chiamato num e poi io voglio diciamo così alterare l'esecuzione del programma sulla base del valore di num in particolare voglio fare una cosa se questo num è maggiore di zero e farne un'altra se questo num in realtà è minore o uguale di zero questa cosa qua è diversa rispetto a quello che abbiamo visto le volte precedenti perché non eseguiamo sequenzialmente le operazioni dopo l'altra ma abbiamo un punto di snodo e da lì abbiamo due soluzioni possibili e addirittura una volta che si crea un bivio io posso nel ramo diciamo di sinistra o nel ramo di destra continuare ad andare avanti potenzialmente diciamo all'infinito quindi per tutto l'esercizio quindi una volta che io per esempio imbrocco una deviazione nella mia strada posso continuare su quella deviazione per molti passaggi addirittura trovarmi di fronte di nuovo ad un altro bivio quindi complicare ulteriormente la struttura del programma qui l'esempio è se il numero è maggiore di zero quando non avrei dovuto specificare nelle frecette l'opzione A e l'opzione B comunque direi che se il numero è maggiore di zero voglio andare a sinistra e quindi voglio per esempio fare print num quindi stampare il valore del mio numero mentre invece se il mio numero è minore o uguale di zero voglio stampare errore che ne so io ho un insieme di temperature e se la mia temperatura è sopra lo zero voglio stampare questa temperatura se invece questa temperatura è minore o uguale di zero non va bene e quindi voglio che il mio sistema me lo dica ora in python appunto le condizioni si esprimono attraverso i comandi if ed else come avevo detto python è un linguaggio di programmazione che è abbastanza parlante da questo punto di vista if and else vogliono dire se fai una cosa altrimenti fanno d'altra e la struttura di un comando if ed else è la seguente in cui io utilizzo la parola riservata if spazio una condizione come le condizioni che abbiamo visto la volta scorsa quindi per esempio la variabile a è uguale a 10 che in Python si scrive a uguale uguale 10 una condizione che mi può restituire due possibilità o true o false poi scrivo due punti a capo mi sposto e lo spazio in cui mi vado a spostare è tendenzialmente o di 4 spazi o del tab della tastiera ma vedrete che Pycharm ve lo fa in maniera automatica se voi scritte if la vostra condizione due punti e schiacciate invio Pycharm già vi sposta di 4 spazi perché sa già che è all'interno di un blocco if e a quel punto dentro quel blocco lì le istruzioni che io voglio andare a eseguire se la mia condizione è verificata ovvero se la risposta è true quindi se la mia risposta è true una riga di codice o anche più righe di codice è da eseguire se la risposta è true se non è true quindi se la risposta è false scrivo else quindi risposta alternativa else lo vedete è sullo stesso livello dell'if scrivo due punti Python interpreterebbe con errore aspetta e scrivo istruzioni se la condizione non è verificata se è false quindi qua tutte le altre istruzioni che io voglio andare a scrivere se la mia condizione non è verificata e quindi se la risposta è false qua appunto mi chiedono se dovessimo scrivere con un semplice editor di test ed usassimo uno solo spazio Python lo interpreterebbe come un errore sinceramente credo di no non sono sicuro però se usate un plain editor di test utilizzate sempre un unico spazio io dovrebbe interpretarlo come un'indentazione poi ci sono alcuni editor di testo che è un po' più intelligenti ti danno già l'indentazione e altri in cui nelle specifiche puoi decidere tu quanto fare questa indentazione magari uno vuole che la sua indentazione sia di non quattro spazi ma di cinque spazi per un motivo qualunque e la si può specificare ho parlato di indentazione indentazione significa appunto spostare indentare allineare il codice a seconda appunto in questo caso qui di un'interruzione del blocco e del flusso tradizionale del codice andando realmente su python perché questa è semplicemente un'idea della struttura del comando il comando if ed else e anzi vi dico prima un'altra cosa che il comando else in realtà vedremo che è non sempre necessario immaginate che io voglio eseguire un'operazione e fare una cosa se una condizione si verifica o farne un'altra ma io potrei trovarmi anche in una situazione in cui voglio che ne so comportarmi in un determinato modo se la condizione si verifica ma se non si verifica non fare assolutamente niente o magari andare avanti con l'esecuzione diciamo standard del mio del mio script quindi l'else la soluzione alternativa non è sempre necessaria quando serve quando vogliamo specificare in maniera esplicita l'alternativa la usiamo altrimenti l'else si può anche non utilizzare andandolo a vedere realmente io qua ho tutta una serie di esempi nelle slide che quando vi scaricherete le slide li trovate però mi sposto su PyCharm così almeno lo vedete eseguire dal vivo e magari chi di voi vuole provare e ha installato tutto può anche provarlo per esempio mi creo un nuovo progetto che lo chiamo lezione 2 quindi per esempio se io voglio fare dei nuovi esercizi dei nuovi script che non li voglio messi insieme agli esercizi della volta scorsa invece che fare crea nuovo file di Python faccio crea nuovo progetto mi creo progetto lezione 2 e a questo punto mi chiede intanto se voglio chiudere questa questa in questa schermata mi chiede se vuole aprirlo in questa in una nuova io gli chiedo di aprirlo in questa in questa schermata mi ricarica tutto da zero e mi crea un nuovo ambiente Python in questa cartellina lezione 2 io come sempre anzi ci teniamo main main appunto come vi ho detto il file di default che lui mi crea cancello quello che c'è scritto dentro perché a me non interessa e tolgo questo pallino rosso ci clicco sopra si può semplicemente togliere mi zoomo un pochino ok ci siamo esempio di esecuzione del comando condizionale if come vi ho fatto vedere nell'esempio di prima poter verificare per esempio se un numero è maggiore o uguale di zero o se è minore di zero e fare due cose diverse a seconda della a seconda della 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 condizione quindi senza utilizzare l'input a questo punto la mia variabile me la vado a scrivere direttamente io creo per esempio una variabile num scelgo che questa variabile abbia un valore qualunque che ne so prendo 6 un numero a caso e poi appunto voglio verificare se io lo so già naturalmente però immaginate l'esecuzione di un programma in cui voi non sapete qual è il valore memorizzato all'interno di num voglio verificare se num è maggiore di zero o se è minore di zero e comportarmi in maniera differente utilizzo il comando if dels scrivo if che è la parola riservata vedete che python me la fa python me la colora di arancione perché per lui è una parola riservata che ha una una semantica ben precisa poi qui scrivo quella che sarà la mia condizione in questo caso siccome voglio verificare che il mio numero sia o maggiore uguale di zero o minore di zero scriverò num maggiore uguale di zero posso scriverlo sia tutto attaccato mettendo gli spazi per python uguale quindi posso separare gli argomenti con uno spazio o scrivere tutto attaccato per lui è uguale scrivo due punti se schiaccio invio vedete che il cursore si sposta non so se lo vedete il cursore però vedrete che anche quando lo provate voi il cursore si sposta direttamente indentandosi dentro questo blocco di codice e qua scrivo le mie operazioni che voglio fare ad esempio io vorrei fare solamente un print in questo caso in cui scrivo il numero è maggiore o uguale di zero punto esclamativo soluzione alternativa quindi else spazio nuovo blocco di codice e scrivo potrei scrivere il numero è minore di zero se no in questo caso scrivo come è l'esempio che avevo fatto vedere nelle slide prima scrivo errore quindi in questo caso qui per me si è verificato un errore e voglio che il mio programma me lo me lo me lo me lo faccia vedere come vedete io ho due print però quando lo andrò a eseguire lui ne stamperà solamente uno di print perché in base alla condizione che si va a verificare se mi posiziono qua e scrivo python main perché adesso il mio programmino si chiama main e faccio invio lui scrive il numero è maggiore o uguale di zero perché effettivamente era 6 se io qua avessi scritto meno 4 ops lo moltiplico non so perché l'ho schiacciato così ok num uguale meno 4 e lo eseguo lui mi risponde errore perché effettivamente in questo caso il mio numero è minore di zero ok vi torna questa è l'idea la struttura base di un dell'utilizzo dei comandi if ed else poi come vi ho detto prima il comando else è un comando che io posso anche non utilizzare immaginate appunto di essere nella condizione in cui io voglio verificare se il mio numero è maggiore o uguale di zero e fare qualcosa però se sto numero è minore di zero non me ne frega nulla non voglio avere assolutamente un risultato non voglio assolutamente che python si comporti in una maniera specifica se sono in questa condizione io la parte dell'else la posso tranquillamente cancellare ora domanda se io eseguo il programma scrivendo appunto num uguale meno 4 scrivo if num maggiore o uguale di zero print il numero è maggiore o uguale di zero ed eseguo questo programma qui secondo voi adesso dico secondo voi se avete patcher ma l'avete provato l'avete visto però insomma chi di voi non ha patcher ma non lo può provare secondo voi cosa mi restituirà python nulla esatto python non mi restituirà nulla perché lui mi fa un print solamente se la condizione è verificata se io lo eseguo in questo modo come vedete python mi va direttamente a ristampare la posizione in cui sono nel terminale e non mi ha stampato niente perché effettivamente il mio numero era meno 4 naturalmente se il numero invece di meno 4 era 4 lui mi stampa appunto che il numero è maggiore o uguale di zero ok fin qui semplice molto banale però magari chi di voi non ha mai visto queste cose non gli è intuitivo ci siamo? immagino di sì insomma qui nelle slide poi guardando le slide potete vedere la stessa identica cosa fatta sulle slide cosa importante da memorizzare è che io posso anche scrivere delle condizioni senza di fatto scrivere delle vere e proprie condizioni o meglio posso chiedere a python come vedete qua di valutare per esempio if num senza che num è messo in confronto con qualcosa ok intanto aspetto il tuo screenshot intanto vado un attimino avanti e quindi cosa succede se io scrivo if num beh python se scrivo solamente if num o se scrivo semplicemente if una stringa verifica se se si tratta di una stringa è non vuota ovvero che ci si è effettivamente scritto qualcosa se è un numero che questo numero sia diverso da zero effettivamente se il numero è diverso da zero se la stringa non è vuota per lui è sempre true come vedete qua se io scrivo num uguale 10 e poi faccio if num lui stampa e poi scrivo else la versione alternativa lui stampa print è un numero intero vedete qua che ha scritto è un numero intero e lo fa perché 10 è diverso da zero se avesse scritto zero avrebbe stampato errore viceversa con la stringa se io creo una stringa che si chiama ciao e poi vado a verificare if stringa se è stringa voglio stampare proprio quella stringa lì quindi scrivo print stringa altrimenti voglio ancora una volta stampare errore come vedete lui alla fine mi stampa ciao perché effettivamente ciao non è una stringa vuota la stringa vuota vi ricordate quella in cui scrivo doppio apice e di nuovo dopo doppio apice anche se ci scrivo in mezzo a uno spazio non è più vuota perché per python lo spazio è comunque un carattere esistente quindi deve essere completamente vuota se fosse stata completamente vuota lì mi avrebbe stampato errore siccome non lo è mi scrive ciao allora aspetta che apro l'immagine che mi avete caricato qui in chat io la schermata non vedo assolutamente nulla non so perché ma non me la fa vedere l'immagine te la fa vedere allora lo mando per mail guarda faccio prima ok sì nel caso me lo mandi per mail ma non è importante era solo perché c'è un errore di sintassi che io non riesco a vedere a visualizzare perché non sono abituata quindi magari è una magari sicuramente una bischerata però io non lo vedo e quindi te lo faccio tranquillo grazie semmai comunque l'errore di sintassi lo puoi anche copiare qua nella chat nel caso se è facilmente comprensibile anche solamente con l'errore magari si può capire qual è il problema mi sembra una bischerata però non capisco non so se è sbagliato io proprio perché ho fatto una sciocchezza cioè ho dato il nome al file python if.py non so se c'è un c'è un problema di cioè se lui già non gli piace il fatto che io abbia chiamato il file if in qualche modo perché mi dice che mi dà vedi un errore di sintassi aspetta ok ok io vedo l'immagine penso perché ci sia uno spazio tra print e la parentesi tonda aperta aspetta vado a vedere sì è quello lo screenshot cioè ma nella parte sopra del del print dell'errore perché voi lo vedete lo screenshot mi riesco proprio a vederlo dopo l'else se si si noi lo vediamo print e deve togliere lo spazio ok ok riprovo ok però lo spazio non ce l'avevo e mi dà lo stesso errore di lei ok ripeto può da purtroppo non so perché lo screenshot ah no adesso me l'ha perto tra l'altro lo screenshot comunque ho copiato la sintassi l'errore della sintassi ah ok no 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 ci sono ci sono aspetta ci sono un secondo perché non so perché non mi aveva caricato lo screenshot attenzione che mi sembra fammi un attimo vedere ok tu sei cioè stai eseguendo il il tuo script sì all'interno del come si chiama del del l'interprete python lo vedo adesso ok se schiacci ctrl z esci ok ok capito perché sei dentro qua se schiacci ctrl z lo vedi subito perché ci sono le tre i tre maggiori quando vedi tre maggiori vuol dire che sei dentro l'ambiente python e se dentro l'ambiente python scrivi python qualcosa lui questa cosa non la capisce quindi quando si chiama schiaccia ctrl z vedrai che lui esce uscendo vedi subito cambia proprio la struttura la sintassi ok ok sì mi ha ridato esatto solo lì esattamente e se ora lo lanci scrivendo python spazio if punto pi dovrebbe funzionare a meno che a meno di altri errori insomma no mi dava solo questo di sintassi devo essere sincera funziona ora e te tratteniamo il fiato yes ah ok mi ma non importa ora ho capito che lui mi dice command not found command not found secondo me è sempre legato al discorso che non riesce a capire dove sta posizionato da dove deve prendere esatto esatto l'ho capito ho capito ok allora fai una cosa siccome se vuoi stare al passo con la lezione esegui pure i tuoi comandi dentro l'interprete natamente non dovrei scrivere python lì dentro ma quando scrivi python scrivi python qui ti scrivi if num eccetera così intanto lo esegui poi nel caso ci sentiamo in mail per risolvere questo problema ok mentre invece prego prego sarà ho capito ho capito ho visto il problema però scrivimi anche il resto del codice perché lì ti seleziona solamente quell'else num minore di zero però magari potrebbe essere legato al fatto che non hai indentato bene con il comando if che è scritto sopra quindi magari copiami il codice intero ok provo a fare anche uno screenshot se no nel caso vai se non ti rispondo subito è perché ci metto un pochino a caricarmi gli screenshot tranquillo grazie vai ok quindi era arrivato qui ok altra cosa che magari è intuitiva ma non così tanto è che io posso eseguire dei blocchi di codice nidificati nidificati vuol dire che li posso eseguire uno all'interno dell'altro ok prendete l'esempio in cui io ho un numero intero e voglio verificare se il numero è uguale a zero o no poi se è uguale a zero mi fermo se invece non è uguale a zero voglio specificare ancora il mio codice e andare a vedere se a quel punto è maggiore o minore di zero come posso farlo ad esempio con una struttura di questo tipo in cui io vado a scrivere if num uguale a zero scrivi print il numero uguale a zero poi scrivo l'else ho visto lo scritto adesso lo guardo a quel punto dentro l'else siccome voglio verificare che il mio numero sia maggiore o minore di zero vado a inserire un altro tipo di condizione if else e quindi scrivo if num maggiore di zero print il numero maggiore di zero altrimenti print il numero è minore di zero come vedete c'è una nidificazione appunto di if c'è un primo if un else dentro questo elf ho di nuovo un if e un else in questo caso siccome il mio numero è uguale a sette controlla la prima condizione ovvero se il numero è uguale a zero non lo è perché è sette quindi va nell'else a quel punto dentro l'else si trova di fronte ad un altro bivio verifica se il numero è maggiore di zero effettivamente sette è maggiore di zero e quindi risponde il numero è maggiore di zero e il risultato finale quindi stampa il numero è maggiore di zero allora aspetta che mi posiziono vedere sui screenshot allora il primo che è quello di Chiara Riccardi l'errore è dovuto al fatto che dopo l'else ci va sempre i due punti dopo ogni condizione sia con l'if sia con l'else sia quel ciclo for e while che vedremo dopo ci vogliono i due punti l'else non prende argomenti non prende condizioni però comunque dopo ci vogliono i due punti come ho visto come vedete qua quindi se metti l'else i due punti dovrebbe funzionare mentre l'altro ok e qua credo che il problema sia legato allo spazio che hai messo tra diciamo i live ed else secondo me questa cosa qua non l'ho mai provata però se io scrivo i live numero di zero else print errore e faccio così non vorrei che appunto li miglia un errore python main no a me funziona questo in realtà anche con lo spazio if num maggiore uguale di zero print mi dice che l'errore sta proprio sulla linea dell'else sì sì ho visto che te lo dà direttamente ah no ma scusami sono stupido io ok ci sono no stupido io l'else non prende argomenti ok l'else è l'alternativa è un po' come o c'è il sole o piove non ci può essere un'alternativa quindi l'else non ha mai un'alternativa quindi sempre else due punti per specificare un'alternativa si può utilizzare un altro if ok perfetto ora funziona grazie mille ok l'esempio ad esempio vedete la slide che vi ho fatto vedere qui in cui c'è if num uguale a zero e poi scrivo un else e vado ulteriormente a a a a specificare no un po' per riagacciarmi appunto il problema che ha condiviso sullo schermo Sara io posso scrivere questo blocco di codice in un'altra maniera evitando di costruire un blocco nidificato come posso farlo? con questa simpatica struttura che è quella del elif elif è di fatto una crasi tra else e if vuol dire sto facendo un else però voglio specificare una condizione ok perché come ho detto adesso appunto l'else non può avere di per sé una condizione quindi l'elif mi permette di dire alternativa al mio primo if ma specificando una condizione quindi sto facendo esattamente quello che ho detto prima voglio verificare se il mio numero è maggiore maggiore di zero se è uguale a zero maggiore di zero o minore di zero quindi sono tre le possibilità me le scrivo utilizzando appunto questo comando if num è uguale a zero faccio una cosa e l'if num è maggiore di zero ne faccio un'altra else perché è l'ultima possibilità che ho se il numero o non è zero o non è maggiore di zero l'altra alternativa è che sia minore di zero scrivo else print il numero è minore di zero in questo modo qua io posso scrivere quante condizioni voglio immaginate che voi avviate non so una lista di numero un numero e volete andare a verificare tantissime possibilità sui valori che può assumere questo numero potete scrivere if e poi dopo una sbarcata di elif 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 e poi alla fine magari l'ultimo else che è l'ultimissima condizione quella che non è verificata quella che viene verificata se non vengono verificate tutte le altre prima che ho che ho elencato ok quindi questo qui in cui ho il blocco unidificato e questo funzionano esattamente alla stessa alla stessa maniera cosa importante da tenere a mente è che quando io scrivo un if e poi vado a scrivere o un else o un elif poi seguito da degli else tutti questi else questi elif o questo else dipendono sempre dal primissimo if che ho dichiarato sono legati necessariamente a quell'if lì vi faccio vedere un esempio di caso al quale magari prestare attenzione prendete l'esempio un po' specifico in cui io voglio verificare dato un numero prima se questo numero è un numero intero ok e poi se è intero voglio vedere se è maggiore o uguale di zero se non lo è voglio vedere che è minore di zero prendete il primo esempio sulla sinistra scrivo num uguale 10 poi qui vedete una nuova un nuovo tipo di di condizione un nuovo tipo di funzione che non avete mai visto fino ad ora è nuova appunto molte cose le scoprirete programmando alcune ve le faccio vedere io questo is instance è una funzione che prende due argomenti il primo è il mio è il mio numero e qua ho fatto un errore perché ho scritto 10 avrei dovuto scrivere direttamente num ho fatto un errore quando ho creato il blocco di codice qua bastava scrivere num perché num è 2 alla 10 comunque funziona uguale if is instance 10 e il secondo argomento è il tipo legato a in questo caso qua la variabile che voglio andare a verificare quindi if is instance 10,int significa 10 è un intero quindi se ho avuto scritto num virgola int mi chiedeva num che assume valore 10 è un intero e scrivo print numero intero a questo punto io voglio vedere che se è un numero intero voglio vedere se è maggiore o uguale di 0 o no quindi in maniera appunto nidificata dentro il primo if c'è un altro if che verifica se questo numero è maggiore o uguale di 0 e scrive print numero maggiore o uguale di 0 altrimenti print numero minore di 0 come vedete il secondo blocco quello che fa if num maggiore o uguale di 0 di else è tutto dentro al primo if quello che fa if is instance 10,int di fatti se lo eseguo questo programma qua mi stampa due cose prima mi stampa che il numero è intero perché lui entra subito e verifica che il numero è intero e poi dopo siccome è intero va avanti e mi stampa che il numero è maggiore o uguale di 0 perché effettivamente 10 è maggiore o uguale di 0 prendete l'esempio prendete l'esempio sulla destra cerco di convertire il codice che ho visto prima come che ho sulla sinistra come ho fatto prima utilizzando l'elif quindi scrivo if is instance 10,int print numero intero poi scrivo elif ops num maggiore o uguale di 0 e scrivo numero maggiore o uguale di 0 else print numero minore di 0 quindi sembra uguale ho fatto la conversione come ho fatto prima se lo eseguo però lui non mi stampa il numero intero e poi il numero maggiore o uguale di 0 ma mi stampa solamente numero intero perché secondo voi perché la prima condizione è quella in if quindi se valida quella il resto non lo guarda nemmeno esatto esattamente questo se nel primo la seconda condizione o il secondo blocco di condizioni if delz è dentro il primo if quindi entro nel mio bivio e poi vado avanti nel secondo caso se io entro nel primo if ormai sono dentro a quel primo if quindi non posso più uscire infatti come vedete la differenza ce la dà l'indentazione stessa nel primo abbiamo un if ci spostiamo sulla destra e abbiamo altro codice al suo interno nel secondo l'if le if e le else sono tutti sullo stesso piano come giustamente ha scritto ha scritto Irene è un po' come dire se io mi ritrovo a un bivio e ho la strada di sinistra e la strada di destra e prendo la strada di sinistra io non posso più tornare indietro non posso tornare indietro e poi andare a prendere anche la strada di destra ormai ne ho presa una e su quella strada continuo e quindi if existence 10 si verifica se verifico quella condizione lì python le altre due non va nemmeno a vederle se io voglio che python le vada a vedere quelle condizioni lì le devo scrivere all'interno di questo blocco non esternamente al primo blocco ok questo per fare attenzione perché magari scrivete con le leaf per semplificare la cosa e per cercare di non avere una struttura lindificata e poi avete un problema nell'esecuzione del codice fin qui vi torna tutto questo è diciamo un po' tutto quello che dovreste sapere sul funzionamento dei comandi if ed else vi torna? sì ok ok allora io qui ho messo tre esercizi sono le 18.24 un'ora di registrazione vuol dire che c'è ancora un'oretta vediamo se riusciamo a farli proprio proprio tutti o se no faccio due e il terzo ve lo lascio primissimo esercizio molto semplice chiedere all'utente di inserire due numeri reali A e B diversi fra loro due numeri reali intendo diciamo intendo float immaginiamo che possono essere anche dei float e voglio semplicemente stappare il maggiore fra i due ok quindi per rifare tutto il processo sono dentro PyCharm a sto punto siccome è un esercizio non voglio fare tutto all'interno del main io main me lo chiudo faccio file new ops mi posiziono qui file file new ci sono python file e ho scritto html file ce la posso fare file new python file lo chiamo es1 e ho il mio es1 che lo zoom anche e quindi dice chiedere all'utente di inserire due numeri reali A e B e su questo diciamo spero che non ci siano più dubbi io scrivo i a uguale input inserisci primo numero due punti spazio e poi mi faccio proprio copia e incolla e il secondo però lo chiamo B ok poi ancora una volta quello che devo fare è come sapete bene convertire questo numero qua che per python non è un numero ma è una stringa in un numero quindi scriverò che A è uguale a float di A e B è uguale a float di B ora ho la certezza che A e B sono due numeri e sono due float quello che voglio fare è verificare se cioè quale fra i due numeri è il maggiore ok e stampare il numero maggiore come posso farlo ad esempio potete cioè se avete già la soluzione potete anche se volendo scriverla lì sulla sulla chat questo è molto molto semplice ovviamente struttandosi di comandi condizionali partiremo con un if ok if A maggiore di B mi torna quindi voglio verificare se A è maggiore di B e se A è maggiore di B posso per esempio fare print per farlo un po' più carino scrivere il maggiore è due punti spazio virgola A ok quindi se A è maggiore di B voglio scrivere che il maggiore è è A alternativa siccome è un'alternativa che non ha un'altra possibile opzione scrivo else print il maggiore di B due punti trazio virgola B ok molto semplice se io scrivo python es 1 inserisci il primo numero che ne so 3 inserisci il secondo numero 8 vabbè ho fatto inserisci il primo numero due volte comunque il secondo numero 3 è 8 lui mi risponde che il maggiore giustamente è 8 fatemi modificare il secondo ad esempio se io volessi verificare anche la condizione in cui i due numeri sono uguali perché qua mi sembra che ho scritto inserire due numeri A e B diversi fra loro però mettiamo la versione in cui i due numeri potrebbero essere anche uguali e quindi voglio anche questa condizione qua come posso cambiare la struttura di questo comando if quindi avere una terza opzione fondamentalmente esatto si aggiunge l'if quindi se A è maggiore di B maggiore uguale però se io scrivo A maggiore uguale di B vuol dire che io nella condizione qui sto scrivendo che il numero può essere sia maggiore sia uguale però sto prendendo in considerazione due condizioni nello stesso momento invece io voglio una cosa se è maggiore una cosa se è esatto minore uguale quindi A maggiore di B è così poi elif A minore di B o anzi B maggiore di A scrivo print maggiore B a questo punto ultimissima condizione e a questo punto else perché i numeri o sono uno maggiore dell'altro o sennò sono uguali scrivo print i numeri sono uguali ok tant'è che se lo vado ad eseguire scrivendo sempre 3 e 8 lui mi risponde sempre che il maggiore 8 se lo eseguo scrivendo 5 e poi di nuovo 5 lui mi risponde che i numeri sono uguali ok quindi come vedete ho utilizzato l'elif che mi ha permesso di specificare una terza condizione se non si trasse sempre lavorando con i numeri e su quel numero lì io posso esprimere non due condizioni ma 3, 4, 5 condizioni potrei avere più elif uno dopo l'altro ok questo è abbastanza semplice tra l'altro vi dico una cosa molto molto semplice io qua ve l'ho fatta risolvere con if else o if anzi con if con if ed else perché vi aiuta a capire come funzionano i comandi in python esiste una simpaticissima funzione che si chiama max che prende due argomenti che sono due numeri e da sola mi restituisce il risultato quindi se scrivo max a uguale b tipo scrivo risultato uguale max a virgola b e scrivo print risultato python fa da solo quello che noi abbiamo scritto in maniera esplicita poco fa quindi scrivo python is uguale 1 e scrivo 2 e 7 lì mi risponde appunto 7.0 cioè lo fa lo fa da solo con questa funzione max ma di fatto max è una funzione che fa un if and else lo fa in modo che voi ora quando lo vediate ma sta facendo esattamente la stessa cosa non occorre specificare else a uguale b ci arriva da solo sì ci arriva da solo perché sono le tre possibilità cioè se io tornando alla soluzione di prima che è questa la prima condizione mi esprime il tipo di condizione che sto verificando ok quindi se io vado a vedere che a è maggiore di b le opzioni sono che quella cosa lì sia maggiore che quella cosa lì sia minore o che sia uguale ok quindi se scrivo il maggiore se scrivo una condizione altra con il maggiore che abbia questa qua vedete che l'ho scritta con il maggiore ma se io avessi scritto prima avrei dovuto scrivere minore quindi a maggiore di b o a minore di b la terza via possibile unica che rimane è l'uguale naturalmente di non c'è alternativa se mi fossi trovato in una condizione in cui ce ne fossero state più possibilità di condizione dovevo specificare tutte l'else è sempre quella l'ultima che rimane quella che lui può diciamo derivare da solo c'era una mano alzata più mani alzate o una mano alzata fate pure intervenire chi aveva la mano alzata io volevo fare una domanda nel caso l'utente volesse inserire un numero sotto radice la variabile è da dare scusa no come si chiamava intero float variabile no variabile è la b cioè che tipo li devo mettere float oppure int che tipo dovrei dare alla variabile no allora il numero sotto la radice c'è proprio utilizzando il carattere di radice python non te lo prende perché se io per esempio voglio dare in input al mio programmino la radice di 5 non puoi scrivere radice di 5 devi scrivere proprio il valore corrispondente alla radice di 5 che non mi ricordo il valore non puoi scrivere radice di 5 poi ci sono dei moduli di python questo lo vedremo alla prossima lezione per calcolare ad esempio la radice a partire da un numero però python ragiona sempre in termini di numeri quindi non gli puoi dire radice di 5 gli devi scrivere proprio il valore specifico della radice di 5 ok e a quel punto il valore della radice di 5 sarà un float ok ok c'erano altre mani alzate forse no ora non ne vedo più però non so se qualcuno lo aveva tirato io avevo alzato la mano ma poi ho risolto ok perfetto guardo il secondo esercizio e poi magari il terzo ve lo lascio a voi sì facciamo così chiedere all'utente di inserire una stringa e verificare se tale stringa inizia con una vocale ok quindi vabbè voi magari vi fate es2.py io lo tengo tutto dentro all'esercizio 1 perché non ho voglia di ricrearmi un nuovo esercizio il punto di inizio ve lo scrivo io perché tanto è abbastanza intuitivo stringa uguale inserisci una stringa naturalmente la stringa non va inconvertita in niente perché è già una stringa non la converto in float non la converto in int voglio verificare se il primo carattere della stringa è una vocale qualche intuizione su come posso farlo se appartiene a una lista nella lista scrivo le vocali se appartiene ad una lista non ho capito puoi ripetere se la prima parola appartiene a una lista cioè se la prima lettera scusami appartiene a una lista e poi scrivo una lista con le vocali sì questa è una soluzione che utilizza un costrutto che vi ho fatto vedere la volta scorsa sul dizionario ma funziona anche per le liste allora Stefano ha scritto stringa di zero sì stringa di zero è il modo per accedere anzitutto al primo carattere della mia stringa sicuramente a un certo punto ho scritto stringa di zero perché stringa di zero è il primo carattere anzi visto che ci può essere root e scrivo car1 che per me significa carattere uno e lo memorizzo dentro stringa di zero quindi car1 significa il primo carattere della stringa vi ricordate le stringhe possono essere viste come delle liste quindi se faccio stringa di zero lui mi prende il primo carattere della stringa un ciclo su una lista scrive Francesco il ciclo su una lista a questo punto a parte che i cicli non li abbiamo ancora visti li vediamo dopo ma in questo caso non ci serve nemmeno il ciclo perché io voglio solamente guardare il primo elemento il primo carattere della stringa quindi non voglio ciclare su quella stringa mi basta prendere il primo che in questo caso qua è stringa di zero existence no perché existence serve semplicemente per verificare il tipo della variabile quindi se è un int se è un float eccetera qua io non voglio vedere se è un int o un float ma voglio verificare se è una vocale la prima soluzione che avete la prima soluzione che ha detto non mi ricordo chi mi sembra Gaia forse se non ricordo male è corretta vi faccio vedere la soluzione quella proprio più brutale in assoluto e poi quella un pochino più più ordinata quella più brutale è quella di fare un bel if con una condizione bella lunga in cui mi va a vedere se ogni volta il mio carattere corrisponde ad una delle vocali quindi come posso farlo scrivendo per esempio if car 1 che sappiamo essere il primo carattere della stringa uguale uguale ad a poi alternativa siccome la mia alternativa deve essere o uno o l'altro perché puoi iniziare con a con e con o eccetera eccetera utilizzo l'or quindi posso scrivere if car 1 uguale a if car 2 uguale e if or scusami or car e perché ho scritto car 2 scusate sempre car 1 or car 1 uguale uguale a e i eccetera eccetera non ve le sto a scrivere tutte e questo mi sta verificando se il mio carattere 1 è a se il mio carattere 1 è e se il mio carattere 1 è i e poi posso aggiungere appunto o e e u ok a questo punto se è così se è vero posso scrivere la stringa inizia con una vocale ovviamente l'alternativa è scrivere la stringa non lo scrivo maiuscolo inizia con una vocale ok se lo eseguo python es 1 e scrivo cane mi dice che non inizia con una vocale se scrivo aereo mi risponde che la stringa inizia con una vocale questa è la soluzione come vi ho detto brutale perché appunto qua ho scritto solamente tre vocali in realtà dovrei mettere tutte e cinque devo scrivere un if con uno due tre quattro cinque condizioni unite da da un or una maniera per semplificare il tutto è come mi è stata data possiamo indicare tutte le vocali in questo caso con un unico termine sì ma non lo vediamo oggi lo vediamo la prossima volta e lo vediamo con no perché mi sono immaginata allora qui è logico io sapere a e i o u e va bene certo però mi immagino che ci sia qualcosa che poi mi va a ripescare ora dico una stupidaggine un termine che è all che io so che all mi comprende le vocali dalla a alla u ecco una cosa del genere ok esatto lo vediamo la prossima volta usiamo le ok ok va bene quelle che si chiamano espressioni regolari che mi permettono di fare delle ok ok va bene va bene e la soluzione di monica è esattamente quell'altra che vi volevo far vedere quella molto più più easy cioè invece che scrivere sto listone di roba come posso fare siccome le mie vocali le posso volendo racchiudere all'interno di una lista mi creo una mia bella lista che chiamo vocali dentro ci metto le mie vocali quindi scrivo a e i o e per finire u tutte minuscole naturalmente ricordate che python è case sensitive quindi per python è diverso scrivere a minuscolo e a maiuscolo quindi se voglio considerare anche le vocali maiuscole devo anche qua aggiungere tutte le vocali maiuscole quindi a e i o u maiuscole via dicendo a questo punto io faccio if car 1 per verificare se il mio carattere 1 quindi se la mia mini stringa che di questo questa cosa è formata da un unico carattere è una vocale basta utilizzare il costrutto in che la volta scorsa abbiamo visto funzionare per i dizionari ma funziona allo stesso modo anche con le liste se io scrivo if car 1 in vocali cosa fa python va a vedere se effettivamente dentro se il mio carattere 1 è dentro la lista vocali se c'è allora è positivo quindi vuol dire che questo carattere 1 è una vocale altrimenti è la soluzione alternativa stessa cosa se scrivo palla lui mi risponde che non è una vocale se invece scrivo ora la stringa inizia con una vocale perché la o è dentro la lista delle mie vocali ok ritorna questo è abbastanza intuitivo l'altro esercizio è data la lista di interi e ve l'ho scritta io qui è un numero intero A che noi chiediamo all'utente verificare se il primo elemento della lista corrisponde esattamente ad A in caso negativo invece stampare il primo numero della lista siccome sono già 20 minuti alle 7 e il blocco dopo è abbastanza intenso io andrei avanti e questo esercizio qua potete volendo farlo per per la prossima la prossima volta e poi lo correggiamo intanto vedrete che gli ultimi esercizi invece del del comando for e del comando while utilizzano a loro volta gli if ed else quindi utilizzerete di nuovo if ed else anche negli prossimi esercizi va bene fin qui vi torna se ci sono dubbi ditemelo se volete fermarvi perché non ce la fate più ditemelo e se no io andrei avanti perché ho ancora un po' di slide bene fin qui bene ok allora cicli for e while ora i cicli sono delle strutture che mi permettono di eseguire blocchi di codice in maniera iterativa dove con iterativa si intende ripetere una determinata operazione più e più volte ok in python esistono due tipi di cicli che in inglese poi sono loop che sono il for loop e il while loop il for loop è un costrutto che esegue un'iterazione per ogni elemento di un iterabile e vi dirò dopo cos'è un iterabile e il for viene definito ciclo definito il while invece esegue un'iterazione fin tanto che una condizione è vera e il while viene definito un ciclo indefinito diciamo così la volta scorsa abbiamo avuto le liste edizionari avete visto che le liste sono elementi variabili all'interno di una lista o coppie di chiave valore immaginate bene che se io voglio fare operazioni su più elementi di una lista più elementi di un dizionario devo ricorrere proprio a queste strutture quindi alle strutture del for e del while l'idea di base è quella che vedete nell'immagine qua sulla destra io ho l'inizio del mio codice che potrebbe essere l'inizio effettivo del mio codice ma potrebbe essere che io avevo tipo 50 righe di codice prima e poi a un certo punto voglio fare questo ciclo in questo caso io voglio fare un ciclo che che ne so mi stampa un determinato numero quindi qua avrò un ciclo o un ciclo for o un ciclo while farò questo ciclo un numero di volte che qua non vi ho specificato e come vedete qua io quello che voglio fare è che per ogni iterazione voglio stampare num che è una variabile numero che da qualche parte io ho memorizzato quindi cosa fa questa operazione fa partire il ciclo for stampa numero torna indietro ristampa num torna indietro ristampa numero e fa questa operazione tante volte quanto quanto l'abbiamo deciso noi il for lo fa tante volte quanto mi è permesso farlo su un iterabile il while invece me lo fa fare fin tanto che è una condizione vera una volta che il ciclo viene interrotto riprende la normale esecuzione del mio programma quindi riprendono tutti i comandi che magari io ho scritto che ho scritto dopo ok ora il primo che andiamo a vedere è il ciclo for il ciclo for permette di iterare quindi di ciclare su tutti gli elementi di un cosiddetto iterabile ed eseguire un blocco di codice ancora una volta con blocco di codice si intende anche un solo blocco quindi per esempio un print di qualcosa ma potrebbe essere anche una serie di di righe di codice più righe di codice addirittura all'interno posso averci più cicli for posso averci degli if eccetera eccetera ora cos'è questo fantomatico iterabile l'iterabile è un qualsiasi oggetto python che è in grado di restituire i suoi elementi uno dopo l'altro quindi detto in termini proprio terra terra un iterabile è una lista è una tupla è un dizionario ci sono anche altre strutture di cui non ho parlato e che possono essere trattate in questo modo comunque in generale liste, dizionari e tuple sono o anche stringhe naturalmente sono elementi che possono essere definiti come iterabili ok qual è la struttura diciamo del ciclo for come per l'if ho una condizione ho una riga di codice con specificato il tipo di ciclo e poi ho dei blocchi da eseguire che io vado a indentare all'interno del mio for quindi esattamente allo stesso modo for elemento initerabile cosa vuol dire vuol dire scorri un determinato elemento all'interno di un iterabile come vi ho detto python è molto parlante quindi è intuibile anche a livello traducendo in italiano si capisce cosa si sta facendo fin tanto che io scorro quell'elemento all'interno di quell'iterabile eseguo delle istruzioni ok qui sto parlando un po' a grandi linee andando effettivamente sul codice e mi sposto ancora una volta qua dentro per farvelo vedere che magari vi è più intuibile torno sul mio vecchio main che tanto il main lo uso per modificarlo vi ho detto che ci serve un iterabile per scuola non for mi creo una lista che chiamo lista anzi la chiamo città e ancora una volta ci metto dentro i nomi di alcune città ci scrivo dentro c'è Roma c'è Napoli e c'è Pisa qual è la struttura del ciclo for scrivo for elemento in città print elemento se io lo eseguo python main.py come vedete lui mi scrive prima Roma poi dopo Napoli poi dopo Pisa ora qual è l'idea di base del funzionamento del ciclo for come avevo detto prima appunto abbiamo il comando e poi abbiamo la scritta print che sta in questo caso un print ma potrebbe esserci anche altre operazioni come avevo detto prima che sono indentate rispetto al for l'elemento che io vado a scorrere è il mio iterabile che è città ok elemento è diciamo l'elemento che mi scorre all'interno di città come vedete elemento io non l'ho dichiarato da nessuna parte prima ok non è che prima ho scritto elemento uguale a qualcosa è la prima volta che nel codice scrivo elemento eppure Python lo riconosce perché lo riconosce perché quando scrivo for elemento in città Python da solo capisce che quell'elemento lì è una variabile perché di fatto elemento è una variabile che però non è fissa con un unico valore ma cambia valore per ogni elemento della mia lista città quindi al prima iterazione elemento assumerà valore Roma alla seconda iterazione assumerà valore Napoli alla terza iterazione e ultima assumerà valore Pisa ok tanto per darvi la prova del 9 se io fuori dal ciclo for vado a scrivere print elemento ok quindi sono uscito dal ciclo for e vado a scrivere print elemento e rilancio il mio codice come vedete lui mi scrive Roma Napoli Pisa e poi di nuovo Pisa perché? perché Pisa è l'ultimo valore che elemento ha assunto elemento prima assume valore Roma poi Napoli poi Pisa poi esco dal mio ciclo for sprint elemento e l'ultimo valore che lui aveva memorizzato era naturalmente quello di Pisa ok quindi di fatto elemento è una variabile che assume valore in maniera iterativa all'interno della mia lista perché si dice che il ciclo for è un ciclo definito si dice che è definito perché io so sempre a priori quanti sono le iterazioni che andrò a fare ok se ho una lista con 10 elementi farò 10 giri se la mia lista ha 5 elementi farò 5 giri se la mia lista è vuota non farò nemmeno un giro lo so sempre a priori ok il ciclo while vedremo dopo invece non funziona così io non so a priori con il ciclo while quanti giri andrò a fare ne faccio tanti finché non si verifica una condizione ok ora qui vi ho fatto vedere nelle slide appunto quella è l'iterabile quella è il mio indice o il mio valore che scorre all'interno del blocco e poi questo è il blocco che lo eseguo n volte ok ora io ora vi ho fatto print città però potete già intuire che il ciclo for è una struttura particolarmente potente per andare a eseguire operazioni magari abbastanza interessanti con le liste o con le tuple eccetera vi faccio vedere un esempio che è quello che ho riportato a camera ve lo faccio vedere direttamente su Pycharm immaginate di avere una lista con dei numeri in cui ho ciò che ne so 2 4 6 8 e 10 banalmente e io voglio creare una nuova lista uguale alla mia lista iniziale quindi sempre con dentro 5 elementi però ogni singolo elemento non voglio che sia 2 4 6 8 10 ma sia il suo doppio quindi a 2 deve corrispondere 4 a 4 deve corrispondere 8 a 6 deve corrispondere 12 e via dicendo ok beh questo tipo di operazione io posso farla studiata esclusivamente ricorrendo al ciclo for volendo anche al ciclo while però in questo caso la vediamo col ciclo for come posso farlo ora altra volta vi ricordate che vi ho detto io posso aver bisogno di carmi delle liste vuote e poi le vado a popolare passo dopo passo ecco questo è proprio il caso l'esempio in cui io ho bisogno di una lista vuota che vada a popolare mano a mano che faccio un'interazione all'interno del mio ciclo for quindi mi creo una mia bella lista che la chiamo tipo lista vuota o nuova lista tipo nuova lista che è vuota quindi dentro non c'è assolutamente nulla a questo punto faccio for elemento numero come volete for numero in lista cosa importante questo qua che prima l'avevo chiamato elemento e ora chiamo numero è una variabile quindi può assumere tutti i valori che voi vogliate a patto che non usiate delle parole che possono dare fastidio a python ad esempio vi ho fatto vedere prima il comando if se io ho la malsana idea di chiamare la mia variabile if quindi scrivo for if in lista python sbarrella completamente ti dà un errore infatti se qua scrivo che ne so print if eseguo questo esercizio python main mi dà invalid syntax perché mi dice tu non puoi usare una parola riservata come il nome di una variabile quindi questo non si può fare però se la chiamo numero nessuno mi vieta di scrivere print scrivere numero se faccio print numero come vedete fa esattamente la stessa cosa che prima con la lista delle città ora quello che voglio fare invece è popolare la nuova lista con ognuno di questi numeri moltiplicati per due per ottenere il doppio quindi al suo interno siccome vi ho detto che dentro un blocco for posso avere come anche un if più righe di codice mi creo una variabile che la chiamo tipo nuovo numero nuovo numero non sarà altro che uguale a numero per due perché voglio il suo doppio quindi nuovo numero assume valore numero per due a questo punto cosa faccio vi ricordate come si faceva ad aggiungere un elemento ad una lista devo scrivere la mia lista che in questo caso è una nuova lista scrivo append append significa appendi aggiungi un elemento alla lista uno dopo l'altro aperta tonda e dentro devo scrivere cosa ci voglio andare a mettere in questo caso nuovo numero ok quindi quello che lui sta facendo è scorre ogni numero all'interno della lista ognuno di questi numeri lo moltiplica per due e lo memorizza in una nuova variabile che si chiama nuovo numero inserisce quel nuovo numero all'interno della mia nuova lista e per quante volte lo fa lo fa per le cinque volte per i cinque numeri che ho memorizzato all'interno di lista se alla fine al di fuori del mio ciclo for scrivo print nuova lista ok e faccio python main come vedete lui mi ha stampato effettivamente la copia moltiplicata per due della lista precedente in cui ho 4 8 12 16 e 20 ok quindi come vedete non è che ci faccio solamente dei print all'interno del ciclo for ma posso andare a fare anche tutta una serie di operazioni anche un pochino più 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 complicate ok e questo è esattamente l'esempio che vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere su PyCharm ora vi faccio vedere alcune cose che possono essere utili quando si lavora con il ciclo for la prima è la funzione range vi ho detto che io scorro initerabile però molte volte a me può essere utile eseguire un ciclo for un numero fisso di n volte senza però dover dipendere da una lista immaginate che io voglio fare un'operazione dieci volte che devo fare ogni volta mi devo creare una lista con dieci elementi e fare for dentro questa lista no mi sembra un po' un po' eccessivo posso utilizzare una struttura che si chiama range che mi permette di creare una sorta di lista anche se un oggetto leggermente diverso ma voi immaginatelo come una lista che ha n elementi quanti noi ne vogliamo range infatti imposta un intervallo di numeri che è tanto ampio quanto un numero che noi gli passiamo come parametro quindi ad esempio se scrivo range aperta tonda 10 chiusa tonda python mi restituisce una struttura che non è altro che una lista con dentro 0 1 2 3 4 5 fino a 9 perché ricordate che in python si conta a partire da 0 e non da 1 però gli elementi nella lista sono 10 ok ora di fatto range di 10 non restituisce proprio una lista restituisce un altro tipo di oggetto che si chiama oggetto range però di fatto è quello che sta facendo come lo posso utilizzare in un ciclo for ad esempio io se faccio for indice in range di 5 e poi scrivo dentro questo blocco print l'indice stesso e poi scrivo ciao mondo qui cosa fa quando lo eseguo mi esegue questa operazione per 5 volte perché effettivamente io ho creato un range di 5 e come vedete mi scrive ciao mondo 5 volte e poi mi scrive anche l'indice che al primo passaggio sarà 0 al secondo sarà 1 al secondo 2 al terzo 3 e al anzi al primo 0 al secondo 2 quindi al quinto sarà 4 ok quindi questo è molto utile perché magari se io voglio fare un'operazione 100 volte non è che mi creo prima lista uguale dentro ci metto a mano 100 numeri basta che scrivo range di 100 e lui già di per sé mi può fare un ciclo 100 volte su questo range di 100 ok vediamo cosa c'era dopo ok struttura leggermente più complicata vi faccio vedere un po' di slide ancora una volta magari alcune cose non vi tornano subito quando fate gli esercizi vi tornano poi più 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 facili insomma da intuire poi da 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 applicare insomma io posso iterare come ho detto prima anche su una lista è su un dizionario qual è il problema il problema è che un dizionario come sapete è strutturato con chiave con coppie chiave valore quindi un dizionario non ha un unico elemento ma cioè ha un unico elemento che però è formato da una coppia chiave valore come posso fare per scorrere un dizionario si può utilizzare questa struttura particolare che si chiama punto items che io vado ad applicare al mio dizionario per scorrere chiavi e valori all'interno del mio dizionario guardate questa struttura il vecchio dizionario in cui c'ho la chiave italia a quale è associata la lista roma milano pisa e la chiave francia alla quale è associata la lista parigi e lione ok con questa struttura diz.items io posso creare questo for un pochino diverso in cui come vedete bene questa qua è una cosa che può essere utile da memorizzare è che io posso scorrere il ciclo for utilizzando più di un indice ok come vedete io ho scritto for k,v in diz.items che vuol dire scorri due indici un indice k e un indice v all'interno di diz.items cosa sono k e v che io avrei potuto chiamare anche pippo e pluto ma ho chiamato k e v perché k sta per chi e v sta per value chi sono le chiavi del mio dizionario v sono i valori e quindi quando scrivo poi sotto print chiave e poi k valore virgola v lui entra nel dizionario chi alla prima interazione ad esempio k assume valore italia v assume valore roma milano pisa al secondo turno k assumerà valore francia e v assumerà valore parigi e lione ok quindi questo è un modo che vi permette di utilizzare due indici e di scorrere all'interno di un un dizionario ora cosa succede se io provo a scorrere un dizionario ricorrendo alla struttura a singolo indice come abbiamo visto fino a prima no immaginate di essere appunto sempre qua su pycharm io ho il mio diz che ha italia al quale è associato roma e pisa e poi lo mando a capo e qua ci scrivo tipo francia con dentro parigi e lione quindi questo è il mio dizionario se applico la vecchia soluzione tipo for elemento lo chiamo indice e scrivo print elemento chi di voi ha pycharm lo può eseguire mi può dare la soluzione però chi non ha pycharm o chi non l'ha ancora provato secondo voi se eseguo questo tipo di 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 ciclo for cosa cosa stampa python sia chiavi sia valori qualcuno ha altre intuizioni siamo d'accordo se io ad esempio lo provo a eseguire qui è sempre main quindi scrivo python main ups come vedete lui mi stampa solamente le chiavi ok quindi for elemento indice per python significa scorrimi solamente le chiavi del mio dizionario quindi elemento assume valore prima Italia e poi Francia posso con una struttura di questo tipo stampare sia le chiavi sia i valori beh si lo posso fare se vi ricordate come abbiamo visto la volta scorsa come si può accedere a come si dice ai valori di un determinato dizionario se io so che elemento ad ogni iterazione è la chiave del mio dizionario se io qua scrivo dis di elemento elemento che sto facendo sto dicendo accedi a elemento scritto c'è la n qua accedi all'entrata del dizionario quindi al valore del dizionario chi ha chiave elemento dove al primo turno l'elemento sarà Italia al secondo turno l'elemento sarà Francia tant'è che se io lo eseguo in questo modo lui mi restituisce esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nell'esempio invece nelle slide Italia e poi Roma Pisa Francia Parigi e Lione quindi insomma iterare chiave e valore in un dizionario si può fare o in questa maniera qui ricorrendo quindi ad un singolo ad un singolo diciamo indice all'interno del dizionario e accedendo qui alla chiave e qui al valore associato a quella chiave o se no lo si fa in questo modo con il doppio con il doppio indice ok ok il doppio indice l'avevo insegnato anche nelle slide ok perfetto ancora due slide sul for e poi c'è il while come per i comandi condizionali possiamo eseguire dei blocchi inedificati ugualmente a prima quindi io posso scrivere un for e dentro il for ci posso avere boh anche un if degli if e degli el if ma dentro il for posso avere a sua volta un altro for cosa importante che vi dico voi non lavorerete mai su grandi quantità di dati però creare dei for nidificati quando sono uno poi diventano due poi diventano tre aumenta esponenzialmente il peso diciamo così dell'operazione che andiamo a eseguire sul nostro computer voi immaginate di scorrere un dizionario o una lista che ha al suo interno non dieci elementi non cento ma c'è un milione di elementi e poi a sua volta immaginate di scorrere anzi immaginate di avere un dizionario con un milione di elementi ed ognuno di questi elementi è una chiave associata ad una lista con un altro milione di elementi se fate due for annidati con questa struttura fate un'operazione che diventa un milione per un milione ok quindi esponenzialmente quello che succede è che ci mette una vita a risolverlo o addirittura vi esplode il vostro computer si blocca l'esecuzione del ciclo tendenzialmente non si blocca se non vado a memorizzare questi valori da qualche parte però quello che vi succede è che non finirà mai di andare avanti quindi usatelo con cautela soprattutto quando lavorate con grandi quantità di dati comunque qui l'esempio è che siccome è un dizionario a cui ad ogni chiave è associata una lista io potrei aver bisogno di accedere ad ogni chiave e poi all'interno di ogni lista accedere ad ogni singolo elemento della lista come posso fare faccio anzitutto il mio for k,v indiz.items che mi permette di scorrere ogni chiave ogni valore all'interno del mio dizionario a sua volta all'interno di questa prima iterazione vado a fare for i in v ok quindi io ancora una volta l'avrei potuta chiamare come volevo scori a questo punto solamente v dove v in questo caso qua sappiamo che è la lista che al primo giro sarà Roma Milano Pisa e al secondo giro sarà Parigi Lione a quel punto scrivo di nuovo dei punti di nuovo indentato quindi questo print qua sarà indentato di due indentazioni quindi di otto spazi rispetto al primo for e scrivo in questo caso print k,i e quindi come vedete lui cosa mi stampa mi stampa Italia e poi Roma poi Italia e Milano Italia e Pisa ha finito a questo punto il ciclo il ciclo esterno riparte con la seconda copia chiave valore Francia Parigi e poi Francia Lione ok sono annidati quindi naturalmente cosa fa Python prima lavora sul for interno poi lavora sul for esterno se avessi avuto 4-5 for annidati prima lavorava su quello interno poi faceva un altro giro su quello esterno poi su quello più esterno poi su quello più esterno ancora ultima cosa sui dizionari che può essere controintuitiva ma chi la utilizza la apprezza da morire una di quelle cose che dicono la list comprehension una delle cose più fighe che ci sono in Python cos'è la list comprehension la list comprehension è una tecnica che ci permette di definire e popolare al tempo stesso delle liste in realtà si può fare anche coi dizionari ma coi dizionari è un pochino più complessa quindi ora non la vediamo in maniera molto sintetica ad esempio se io volessi popolare una lista come ho visto fino ad ora faccio come ho fatto nel primo esercizio in cui facevo la lista e moltiplicavo i numeri per due creo una lista vuota in questo caso faccio for num in range di 5 perché voglio popolare una lista con 5 numeri e poi vado a scrivere lista punto append num per 2 ok il range di 5 sapete come ho detto prima che vi crea una sorta di lista con dentro 0 1 2 3 4 però dentro la lista io non appendo num ma ci vado a mettere num per 2 quindi 0 per 2 farà 0 2 1 per 2 farà 2 2 per 2 farà 4 e via dicendo quindi alla fine quando faccio print lista lui mi restituisce una lista con dentro 0 2 4 6 8 ok quindi 1 2 3 4 righe di codice ho popolato la mia lista che è molto molto sintetico ok la list comprehension è una struttura che mi permette di fare questa cosa qua in una sola riga di codice ovvero così la struttura della list comprehension può essere un po' controintuitiva perché come vedete io creo una variabile lista che è la mia lista ovviamente come sempre la chiamo lista la chiamo people la chiamo come mi pare uguale siccome io quello che voglio andare a creare è una nuova lista prima cosa che faccio è apro la quadra e chiudo la quadra quindi devo creare una lista aperta e chiusa quadra cosa ci vado a mettere dentro queste due quadre creo una struttura che si basa sul ciclo for però come vedete è quasi al contrario no prima noi vedevamo il for e dentro il for l'operazione che andiamo a fare con la list comprehension si va esattamente al contrario prima scrivo l'operazione e poi tutto all'interno della stessa riga quindi non vado a creare indentazioni o niente tutto all'interno della stessa riga dopo l'operazione vado a scrivere il ciclo che vado a fare non per due se ci fosse stato scritto solamente non per due python avrebbe detto errore perché lui mi dice ma io cosa ci faccio con num non so assolutamente cosa sia num però poi io scrivo num per due spazio e poi for num in range di 5 quindi automaticamente python capisce che deve scorrere questo indice num all'interno di range di 5 e il risultato che deve andare a creare all'interno della lista è num per due quindi al primo giro sarà zero per due al secondo giro sarà uno per due eccetera eccetera questo me lo fa per tutte le il numero di elementi che in questo caso specificato con con il range può sembrare un po' controintuitivo ma quando si tratta di creare magari liste complesse eccetera in una riga di codice abbiamo fatto un'operazione che si potrebbe fare magari in più righe di codice vi torna questo credo che poi c'è il while sì esatto vi torna fino a qui con il comando con il for un attimo credo di sì ok ok ciclo while dopo un paio di usi forse sì certo appunto adesso spero di riuscire a farvi fare un po' di esercizi con me ora se no ci provate durante la settimana e poi li guardiamo per bene all'inizio della prossima lezione comunque insomma 19.07 forse almeno a vederne uno o due ci riusciamo allora il ciclo while invece come ho detto prima fa un'iterazione esegue un blocco di codice fin tanto che è una condizione vera ok quindi non fa come prima in cui io scorro una lista ma io pongo una condizione e fin tanto che posso verificare questa condizione eseguo le istruzioni ok si dice che è un ciclo indefinito o indeterminato insomma perché è un po' come se io vi dicessi fin tanto che fuori piove tieni aperto l'ombrello ok io non so quando smetterà di piovere l'unica cosa che so è che fin tanto che piove per evitare di bagnarmi tengo l'ombrello aperto ok col ciclofor è diverso perché il ciclofor ha una struttura del tipo piove fino alle 10 quindi fino alle 10 tieni l'ombrello aperto se alle 10 lo chiudi stai tranquillo che avrà smesso di piovere il while funziona invece in maniera diversa cioè io non so quando smetterà di piovere tu tieniti sempre l'ombrello aperto quando smette puoi tranquillamente chiudere l'ombrello ok la struttura del del costrutto while è come la vedete qui while una condizione da verificare quindi vuol dire che mi deve restituire o true o false fin tanto che la condizione è true eseguirò delle istruzioni quando la condizione non è più true o magari non l'hai mai stata io quelle esecuzioni smetto quelle istruzioni smetto di eseguirle ok esempio che vi faccio vedere di nuovo qui creo per esempio una variabile che assume un valore per esempio lo chiamo tendenzialmente li vengono chiamati contatori quindi la chiamo contatore che assume valore 5 quindi è una variabile che si chiama contatore a valore 5 io scrivo while i è maggiore di 0 quindi la mia condizione è scusami scusato ho sbagliato non i è contatore sarebbe stata i se contatore non era contatore ma sarebbe dovuta chiamare i quindi la mia condizione è fin tanto che contatore è maggiore di 0 che faccio boh in questo caso faccio semplicemente print contatore ok ora siccome vi ho detto che la condizione deve essere verificata ogni volta per far sì che voglio uscire fondamente da questa condizione voglio modificare il valore di contatore in questo caso qua siccome l'operazione si esegue fin tanto che il contatore è maggiore di 0 devo far sì che infatti qualcuno mi chiede non cicla di finito esatto devo far sì che ad ogni iterazione il mio valore di contatore viene diminuito viene decrementato come posso farlo? beh io scrivo per esempio contatore è uguale a cosa? è uguale a contatore meno 1 se io faccio così cosa sto facendo? contatore all'inizio è 5 contatore maggiore di 0 quindi entro dentro al while poi aggiorno il valore di contatore contatore diventa contatore meno 1 e quindi 5 è uguale a 5 meno 1 quindi il secondo turno diventerà 4 poi diventerà 3 poi diventerà 2 poi diventerà 1 quando diventerà 0 smetterà di fare il ciclo while andiamo a eseguirlo python main come vedete mi scrive 5 4 3 2 1 e si ferma perché prima il contatore era 5 poi viene decrementato ogni volta e si ferma questa è un po' la condizione di prima while contatore è maggiore di 0 immaginatelo un po' come while fuori piove tieni l'ombrello esattamente la stessa identica stessa identica cosa tra l'altro cosa che vi può essere utile aiutare questo costrutto contatore uguale contatore meno 1 lo possiamo scrivere in una maniera ridotta che è molto utile che è la seguente ovvero contatore meno uguale 1 cosa vuol dire questo vuol dire vuol dire esattamente contatore uguale contatore meno 1 significa a contatore togli un elemento alla volta togli un 1 alla volta quindi se un numero è appunto 5 4 3 2 1 perché qua ho messo un meno se avessi messo per esempio un più me l'avrebbe incrementato quindi prima era 5 poi 6 poi 7 poi 8 poi 9 poi 10 a questo punto ad esempio siccome lo sto incrementando potrei fare una cosa del tipo why il contatore minore di 50 quindi fin tanto che il contatore è minore di 50 stampa il contatore quando diventa 50 fermati se lo vado ad eseguire come vedete prima stampato a partire da 5 perché il mio contatore partiva da 5 5 6 7 8 9 10 eccetera eccetera fino a 49 fino a 49 perché quando contatore diventa 50 lui si ferma e quindi 50 di fatto non lo stampa quindi si ferma esattamente ad uno step prima di stampare 50 ok come giustamente qualcuno ha già notato prima il discorso è e qua è l'esecuzione del comando cosa succederebbe se la condizione di controllo restasse sempre true ovvero se io qua vado a scrivere while contatore maggiore di 0 e qua non faccio nulla se io faccio così siccome non aggiorno mai il mio valore di contatore contatore sarà sempre 5 siccome il contatore è sempre 5 la mia condizione è sempre verificata siccome è sempre verificata se io vado a fare python main lui mi continua a stampare 5 a ruota questo è quello che si dice un infinite loop cioè un ciclo all'infinito cioè python non riesce a uscire da questo ciclo perché continua a stampare 5 continuamente quindi prima cosa evitate di ritrovarvi in una situazione di questo tipo perché se avete magari tante righe di codice e non capite dov'è magari non riuscite a capire bene dove sta il problema seconda cosa se vi trovate in una situazione di questo tipo per interrompere il ciclo il ciclo infinito schiacciate control z e questo interrompe l'esecuzione dello script ok quindi mi raccomando se anche facendo delle prove con gli esercizi fate per sbaglio o volontariamente partire un infinite loop per fermarlo control z e ve lo interrompe volendo poi siccome siete dentro PyCharm se volete una soluzione ancora più brutale chiudete PyCharm e a quel punto lui automaticamente interrompe anche l'esecuzione dello script ok quindi infinite loop come vi ho fatto vedere e poi c'è l'ultimissima cosa sì esatto perfetto ok questo diciamo ancora una volta è tutto quello che vi può interessare circa il il ciclo il ciclo while ok molte delle cose che si possono fare col ciclo for for si possono fare col while e quindi sono intercambiabili altre volte o alcune cose si possono fare solo con uno o con l'altro o in alcuni casi si possono fare in entrambi i modi ma magari è molto più comodo usare il while o è molto più comodo utilizzare il for partite sempre da questa cosa se il mio ciclo è definito quindi ho da iterare una lista ben precisa ben definita forse è meglio usare il for se lavoro su qualcosa di indefinito forse potrebbe essere meglio utilizzare il while ultime due cose che vi faccio vedere sono questi comandi speciali che si chiamano break e continue che si usano sia col ciclo for e col ciclo while e che permettono di alterare la normale esecuzione di un ciclo cioè quando io sto facendo un ciclo su non so 500 200 300 elementi posso alterare l'esecuzione del ciclo utilizzando questi due comandi il break in particolare serve per terminale qua ho scritto while in realtà perché non avevo aggiornato le slide vale sia per il while sia per il for termina il ciclo while in maniera while o for prematuramente se io metto il break lui si ferma il continue invece non interrompe l'esecuzione di tutto il ciclo ma fa saltare l'esecuzione del codice dopo quell'istruzione e lo fa ripartire dall'inizio cosa vuol dire? se io per esempio ho un while e dentro il while ho 50 righe di codice se io ho un continue alla riga 25 quando lui becca quel continue non esegue quelle 25 righe di codice restanti e riparte dall'inizio faccio vedere due esempi qui ad esempio sono in una condizione in cui sono di nuovo in un infinite loop perché ho un controllo che assume valore true e poi ho scritto while controllo siccome true è sempre true se scrivo while controllo il mio ciclo potenzialmente va avanti all'infinito però sono abbastanza intelligente e a un certo punto gli dico evitiamo di fare un ciclo infinito che faccio in questo caso? creo un contatore quindi una variabile contatore che assume valore 0 e ad ogni iterazione la incremento e me la stampo anche quindi vedete che dentro il while c'è scritto contatore più uguale 1 e poi c'è scritto print contatore infatti vedete sotto che scrive 1, 2, 3, 4, 5 poi però faccio dentro il while c'è un if quindi come vedete posso combinare insieme for, while e if if contatore uguale 5 quindi quando il mio contatore che all'inizio è 0 ma a un certo punto diventerà 5 perché lo sto sempre di più incrementando quando è 5 faccio intanto print fine del loop perché voglio dichiarare che sto finendo il loop e poi scrivo break se eseguo questo programma qua lui mi stampa 1, 2, 3, 4, 5 a quel punto contatore assume valore 5 controlla che il contatore sia uguale o uguale a 5 lo è print fine del loop e interrompe il ciclo quindi questo ad esempio mi permette di interrompere definitivamente il mio ciclo ed evitare in questo caso che si entri in un loop infinito il continue invece funziona appunto in maniera leggermente diversa immaginate qui invece di scorrere ancora una volta un contatore e di scorrerlo per 5 volte però ad un certo punto quando il contatore assume un valore particolare in questo caso io ho scelto 2 alterare la sua esecuzione ok? quindi faccio contatore uguale a 0 scrivo fin tanto che il contatore è minore di 5 ok? anzitutto contatore più uguale a 1 quindi lo incremento e poi l'operazione principale di questo script è quella che vedete dopo l'if questo print contatore quindi lui di fatto farà sempre print contatore però quando il contatore assumerà valore 2 if contatore uguale uguale a 2 io faccio due punti scrivo interruzione del loop e poi faccio continue se guardate il risultato che ho scritto qui lui cosa fa? mi scrive 1 poi se non avessi avuto quel continue lui avrebbe scritto 2 però 2 non lo stampa perché? perché controlla se if contatore uguale uguale a 2 quando il contatore assume valore 2 printa interruzione del loop e poi fa continue cosa vuol dire continue? tutto quello che viene dopo in questo caso qua quello che viene dopo è semplicemente print contatore non lo fa a differenza però del break non interrompe tutta l'esecuzione del while semplicemente riparte dall'inizio al turno dopo naturalmente il contatore incrementa assume valore 3 e quindi non entra più in quell'if non fa più il continue e continua l'esecuzione naturalmente fin dato che il contatore assume valore 5 ok? e questo è quanto circa i comandi for e while so che c'è un po' di roba però vi ho messo anche un po' di slide di esercizi in modo che voi possiate un po' provare a farli e siccome sono un po' poi la prossima lezione li possiamo guardare tutti quanti insieme e correggerli magari non so se riusciremo con tutti quanti però cerchiamo di guardare anche quelli un pochettino più complessi ora 1,56 mancano ancora 4 minuti se avete la pazienza di restare ancora 3 minuti in più rispetto al normale fine della lezione magari ne vediamo 1 o 2 al volo giusto per darvi un'idea ok? cosa meno avete il là per partire anche voi con gli esercizi gli esercizi sono questi 1,3,3 e... no, quindi sono 8 alcuni si possono fare col for alcuni col while provate voi fondamentalmente ad esempio scrivere un programma che è dato in input una lista di numeri interi restituisca il totale di numeri pari e dispari presenti all'interno di questa lista ok? come lo possiamo fare? torno su PyCharm creo a questo punto un nuovo file lo chiamo per esempio in questo caso lo chiamo es cicli 1 perché è il primo esercizio dei cicli non vi ho scritto qua nell'esercizio di chiedere all'utente una lista anche perché non si può chiedere all'utente di inserire una lista dovremmo chiedere all'utente di inserire i numeri e poi noi andiamo a creare la lista quindi la lista ce la creiamo noi ve la create voi come vi pare quindi per esempio io creo una lista aspetta che zoomo ancora un po' una lista con dentro dei numeri magari mi dite un po' di numeri pari un po' di numeri dispari quindi 4, 3, 5, 11, 10, 9, 8 e 7 ok? quello che voglio fare è restituire il totale quindi voglio un numero alla fine anzi voglio due numeri dei numeri pari e dei numeri dispari presenti al suo interno come posso fare secondo voi? avete già qualche idea su come si potrebbe fare? io avrei mezza idea ma scriverei in java però non so neanche se è giusta vabbè a parte di come scriverla in java però l'iter dell'esecuzione quale sarebbe secondo te? allora arrivare fino alla fine della lista e fare entrare all'interno di un ciclo if all'interno del ciclo if mettere una condizione come se 4 modulo di 2 uguale uguale a 0 stampalo un altro if con modulo uguale uguale a 1 stampa numero dispari ok l'esecuzione del ciclo for è giusta l'unica cosa che chiedo io qua nell'esercizio è di non stampare i numeri pari e dispari ma di restituire il totale di numeri pari e dispari quindi vuol dire quanti numeri ci sono sommarli quanti numeri? sì quindi quanti sono i numeri pari dentro questa lista e quanti sono i dispari in questo caso tipo qua c'è scritto 4 10 e 8 sono tre numeri pari i restanti sono i dispari ok quindi vorrei avere 3 e i restanti sono i dispari ok quindi vado è una somma fondamentalmente cioè vado a sommare i pari e i dispari però l'esecuzione del for è corretta cioè sarà sicuramente un for numero in lista ok perché voglio scorrere ogni singolo numero all'interno della della lista ok quindi sapete che facendo così numero prima sarà 4 poi sarà 3 poi sarà 5 poi sarà 11 voglio verificare i pari e i dispari quindi per verificare i pari o dispari avete visto l'esercizio che c'era per compito posso fare il modulo quindi if numero modulo di 2 uguale uguale a 0 so che il mio numero è pari farò qualcosa qua scrivo fare qualcosa else fare altro ok siccome non voglio stamparli ma io voglio memorizzare il numero di numeri pari numeri dispari come lo posso fare beh la soluzione più più semplice è che io mi preparo a priori due variabili numeriche che hanno valore 0 e le incremento ogni volta che io trovo un numero pari un numero dispari ad esempio creo una variabile che chiamo pari che ha valore 0 e una variabile che chiamo dispari che ha valore 0 ok sono due variabili che hanno un valore che è 0 ora se sono in questa condizione ovvero un numero modulo di 2 uguale uguale a 0 il numero è pari e quindi faccio semplicemente pari più uguale di 1 che vi ho fatto vedere prima incrementa questa variabile di 1 quindi prima 0 poi diventerà 1 poi 2 eccetera altrimenti dentro l'ess vado a incrementare dispari quindi faccio dispari più uguale 1 alla fine fuori dagli if e fuori dal for mi faccio per esempio due byprint nel primo scrivo i numeri pari sono spazio e qua scrivo pari i numeri dispari sono due punti spazio dispari ok lo vado a eseguire e e ho fatto partire il main scusate devo far partire l'esercizio che si chiama python es cicli 1 e come vedete mi ha scritto i numeri pari sono 3 i numeri dispari sono 5 ok se io modifico la lista e ci metto dentro solamente numeri dispari tipo 3 3 3 e 3 lui mi dirà che ci sono 0 numeri pari e 4 numeri dispari ok quindi questo è l'esempio del primissimo del primissimo esercizio sono passate due ore quindi direi che ci possiamo fermare fermare qui perché se no vi porto via troppo tempo visto che comunque sono le 7 e mezza praticamente cioè sono le 19 e 26 se aspetta un attimo qualcuno di voi volete tutti quanti fuggire o avete ancora 5 minuti domanda qui nessuno ha coraggio di rispondere dai facciamo per me si può stare 5 minuti vi faccio vedere solamente questo esercizio qua che si può fare col while perché così poi vi dà l'aggancio per quello dopo perché è un po' magari non è così intuibile ok non è così intuibile il suo funzionamento quindi magari vi aiuta a vedere come si potrebbe fare scrivere un programma quindi questo nella slide dopo scrivere un programma che prende in input una stringa e che stampa la versione inversa della stringa quindi se ho ciao voglio che risponda o like ok vado su pi charm lo chiamo vabbè io mi tengo sempre es cicli 1 perché se no ci metto troppo tempo la chiamo stringa stringa gli do valore ciao e voglio andare a creare diciamo la stringa invertita ok ve lo chiedo al volo anche se magari non è così intuibile a parte chi ha già fatto un po' di programmazione un po' di algoritmica come secondo voi si potrebbe fare questa cosa o quantomeno secondo voi è più comodo usare il for o è più comodo utilizzare il while tanto silenzio nessun tipo di intuizione anche non diciamo scrivendo proprio il programma secondo voi quale potrebbe essere l'iter per risolvere questo esercizio cioè una stringa c i a o e voglio scrivere o a i c ok tutto tace quindi forse non è così così intuibile infatti immaginavo questa della stringa possiamo partire da lì all'indietro c'è una cosa tipo strelente so sì quello è proprio il là per capire il funzionamento di tutto l'esercizio se ho una stringa la posso trattare come vi ho detto una sorta di lista se è come una sorta di lista posso prendere la sua lunghezza se ho la sua lunghezza posso provare a scorrere a ritroso partendo dal suo elemento della lunghezza che corrisponde al suo ultimo elemento e andare all'indietro ok ora prima cosa siccome vogliamo creare una nuova stringa che sia al suo contrario io mi creo una nuova stringa che sarà vuota come come prima ho creato un contatore che partiva da zero come ogni tanto io credo le liste con zero elementi o con i dizionari con zero elementi questa qua è una stringa vuota quindi una stringa che non ha assolutamente nessun valore poi voglio scorrere la mia stringa però la voglio scorrere diciamo al contrario come posso fare? beh mi serve intanto la sua lunghezza per sapere qual è il suo ultimo elemento e da lì andare indietro quindi mi creo una variabile che chiamo lunghezza che ok for i uguali punto length i minuto punto length che questa è con un'altra sintassi che non è quella di python però questa è l'idea basandosi con 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 un ciclo for che diciamo così mi parte dall'ultimo elemento e poi va ritroso con i meno i meno meno sì esatto lì lì può avere può avere senso vi faccio vedere l'utilizzo invece col while che secondo me è abbastanza più è più pulito se io scrivo len di stringa voi sapete già che la len di una lista in questo caso di una stringa mi restituisce il numero di la lunghezza della lista ricordiamoci anche però un'altra cosa che se io prendo la len della stringa lui cosa mi restituisce? se ho ciao mi restituisce 4 ok? però facciamo attenzione l'ultimo elemento della stringa non è l'elemento con indice 4 è l'elemento con indice 3 perché si parte contendo da 0 quindi c è 0 i è 1 a è 2 e o è 3 l'end di stringa invece mi restituisce 4 quindi per ottenere l'ultimo elemento della lista devo sempre fare l'end di stringa meno 1 gli tolgo 1 e così accedo esattamente all'ultimo elemento della lista in questo caso la lista non è una lista ma è una stringa ok? a questo punto lo faccio con un ciclo while quindi ho un while la mia condizione qual è? la mia condizione naturalmente la pongo sull'unica variabile che qua ho creato quindi lunghezza fin tanto che lunghezza è siccome vogliamo andare a ritroso e siccome l'enna ha valore 3 quindi andiamo a scendere sicuramente la condizione finale è 0 ok? fin quanto noi operiamo su questo while fin tanto che la lunghezza è maggiore di 0 quindi fin tanto che la lunghezza è maggiore di 0 continuiamo a fare la mia operazione ok? e poi? scusa non dovrebbe essere maggiore o uguale a 0 per prendere anche l'ind di il primo indice scusate scusate è vero fin tanto che è maggiore o uguale di 0 perché se faccio maggiore mi perdo l'ultimo 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 elemento che è la c in questo caso quindi maggiore o uguale di 0 perché voglio prendere anche la c a questo punto mi scrivo tipo carattere una variabile che chiamo carattere a cosa è uguale a carattere è uguale a stringa di lunghezza ok? si trattano le stringhe come si possono trattare le liste stringa di lunghezza non vuol dire altro che il carattere con indice lunghezza siccome al mio primo ciclo lunghezza avrà valore 3 stringa di 3 sarà o al secondo giro stringa di 2 sarà a stringa di 1 sarà i stringa di 0 sarà c e quindi qua mi basta semplicemente fare nuova stringa siccome vogliamo sommare che la somma con le stringhe l'abbiamo visto la volta scorsa non somma ma con catena posso fare vabbè si può fare più uguale ve la faccio vedere nella versione stesa come prima nuova stringa uguale nuova stringa più carattere cioè vai a incrementare la mia nuova stringa al primo turno nuova stringa è vuota più carattere sarà o al secondo turno sarà o più a quindi o a al terzo turno sarà o a più i quindi o ai eccetera naturalmente questa indicazione qua la posso scrivere anche come vi ho fatto vedere prima nuova stringa più uguale carattere alla fine esco dal while e faccio print nuova stringa vado qui e cicli 1 che in realtà non è più l'1 però insomma scrivo ok ok sto guardando quello giusto aspetto secondo ok ah mi sono dimita esatto perché stavo facendo girare tutto quanto e non faceva assolutamente nulla perché errore mio però magari lo vedete anche voi è l'ultima cosa poi ce ne andiamo qui sta ciclando all'infinito lunghezza non è aggiornato esatto non è variato lunghezza esatto lunghezza non è aggiornato qua lui non mi sta stampando nulla però è comunque un for loop perché lunghezza va aggiornato se non aggiorno lunghezza lunghezza è sempre maggiore o uguale di 0 perché sarà sempre 3 lunghezza deve andare a scendere e quindi lunghezza meno uguale lunghezza il che vuol dire ad ogni turno lunghezza qua vi metto lo spazio questo non è più chiaro lunghezza è 3 poi diventa 2 poi diventa 1 poi diventa 0 e poi si ferma a quel punto si ferma perché l'ultima condizione è while lunghezza maggiore o uguale di 0 quando lunghezza assume valore di 0 fa l'ultimo ciclo poi lunghezza diventa meno 1 e a quel punto si ferma lo eseguo e non vedo perché non mi ha fatto lunghezza meno meno 1 lunghezza meno uguale 1 sì infatti facciamo lunghezza uguale lunghezza meno 1 banalmente è più easy ci abbiamo fatto ok ho scritto male lunghezza meno meno 1 lunghezza uguale lunghezza meno 1 python es cicli 1.py lo eseguo e vedete che mi ha scritto oaic ok si scrive alessio e scrive il mio nome al contrario vi torna questo esercizio ve l'ho dato perché non era così facile da capire soprattutto perché l'esercizio che avete subito dopo vi chiede di scrivere un programma che date in input e una stringa riconosca se si tratta di un palindromo e vedrete che avendo la soluzione del primo capirete poi come fare l'altro poi avrete un terzo esercizio e poi questi due qua che sono un pochino più complessi vi richiederanno di scrivere si vede già dalla consegna diciamo così dovete scrivere un pochino più di codice e provateci caricateli quando volete soprattutto vi ricordo se li caricate durante la settimana li vedo se li caricate il giorno stesso alle 4 magari non faccio in tempo a vederli ma comunque li guardiamo poi insieme detto questo se ci sono dei dubbi di qualunque tipo su su quello che abbiamo visto oggi ditemi pure altrimenti ci sono comunque i miei riferimenti per contattarmi per mail anche se durante la settimana state facendo un esercizio e avete un dubbio per evitare di aspettare fino al giovedì dopo potete scrivermi altrimenti se non ci sono problemi o dubbi ci vediamo giovedì prossimo ok?